ciao allora lunedì 7 maggio inizia il gopro travel to madrid questa è malpensa terminal 2 andiamo a prenderci un easyjet arriviamo stasera e poi cercheremo all'ostello e questo è l'inizio dei gopro travel di mojo dad e mojo sophie ma ammazza check in passato e adesso parte il programma musica possibilmente spagnola e erasmo da rotterdam l'elogio della follia questa ragazza è pazza pazza eccoci andiamo sull'aereo via direzione madrid madrid viaghiamo no 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 Davide, siamo invitati a una cosa molto italiana, siamo arrivati a Madrid e abbiamo toccato terra ma di solito quando tocchi terra in un aereo a prevalenza di italiani tutti si mettono ad applaudire, non si sa perché, è come se la gente salisse sul tram e quando si ferma la fermata, non cominciassero ad applaudire per fare le sedi per fare la sicurezza. Yeeeeeeeeeeeeeee! Via che rosa è Madrid! Allora, Madrid, siamo nel metro, metro che ha 12 linee, una città di più o meno 4 milioni di abitanti, 7 con il distretto della capital, siamo in Castiglia. Allora, siamo su una metropolitana di Madrid, una linea molto trafficata, sera sono più o meno le 9.20 della sera, oppure c'è un sacco di gente nella carrozza, però sentite adesso l'annuncio della prossima stazione, io non ho capito perché è così. Allora, a nome di tutti i turisti italiani vogliamo chiedere agli spagnoli perché prossima stazione lo dice un maschio, il nome della stazione lo dice una femmina, non sarà mica roba di fare i tanti diritti, questa è Puerta del Sol, Sol è la piazza dove i tifosi del Real Madrid festeggiano i loro successi, il primo giorno è finito, siamo stanchi, dobbiamo dormire. Questa è una città meravigliosa. Ciao! Ciao! Buon anno al tempo!